god save the wine un angolo di bosco un angolo di natura perché noi sappiamo che nick che è venuto dal brasile in toscana per trovare natura meravigliosa se lo dobbiamo portare a milano dobbiamo portare un posto speciale un posto meraviglioso albergo meraviglioso il bosco meraviglioso il vino meraviglioso le amicizie meravigliose questo del resto per un vino che si chiama insieme è inevitabile insieme wine fantastico esatto raccontaci due cose stasera il focus è uno sulla cucina milanese quindi poi andiamo a vedere insieme su quale piatto milanese per andare bene però prima raccontaci il rapporto che ha questo vino con la natura dove nasce no la val d'elsa questo vino il gt toscano san giovese cabernet fra in merlo è nato delle vitigni proprio lì a caso le d'elsa grande enologo paolo marchi tre anni di curi un po di acciaio cimento e legno un anno e quasi un anno e mezzo di bottiglia e siamo arrivati a questo vino meraviglioso è un vino più che altro che c'ha cosa ti ha colpito quando è venuto fuori cioè cosa del terroir dove sei te che cosa ti ricorda veramente della valdessa il proprio il cabernet fra il profumo della zona della san giovese il tosto di san giovese buono e il merlo che ti lascia proprio la morbidezza ad accendere è un vino che apre insieme wine bevi tranquillamente tranquillamente infatti un vino che si resta benissimo una serata così ma anche in contesti più eleganti più raffinati come si direbbe da bosco e da riviera in toscana visto oggi siamo nel bosco ecco un piatto della cucina milanese dove secondo te dovremmo provare l'osso buco toscano diciamo dire che è bellissimo un bel risotto con zafferano fantastico effettivamente pur avendo la struttura dal vino toscano quindi anche l'importanza in realtà secondo me anche bevuto leggermente fresco lasciando lì un paio d'anni perfetto fino a 10 anni tranquillamente puoi bere tranquillamente insieme wine molto buono e ti sta benissimo e allora da qui a 10 anni sperimentazioni salute un'altra volta e grazie per sempre per la gentilezza